In occasione della giornata mondiale degli oceani abbiamo voluto che accanto alla Guardia Costiera si unissero gli sforzi della società civile. Per il terzo anno consecutivo la Guardia Costiera italiana e il progetto europeo CleanSea Life hanno lanciato la terza campagna di bonifica straordinaria dei nostri fondali. Nei due anni precedenti oltre 20 sono state le tonnellate di rifiuti rimossi dai nostri mari, anche quest'anno per un periodo ancora più esteso volontari diving si sono immersi all'interno di una cornice di sicurezza garantita dai comandi territoriali della Guardia Costiera e dai nostri cinque nuclei subacquei. Quello che abbiamo raggiunto è non soltanto il recupero di rifiuti dai nostri fondali, la maggior parte plastiche, ma soprattutto quello di sensibilizzare le coscienze, le coscienze della società civile, le coscienze di tutti i cittadini affinché si ottenga un obiettivo trasversale, un obiettivo comune che è quello della difesa del nostro mare. Per la giornata mondiale degli oceani la Guardia Costiera prosegue l'attività di recupero delle reti fantasma, abbandonate sui nostri fondali volontariamente o accidentalmente. Oggi siamo davanti al porto turistico di Ostia, alle mie spalle impegnato il nucleo subacqueo della Guardia Costiera di Napoli che sta procedendo al recupero di una rete di grandi dimensioni abbandonata su un fondale di circa 26 metri. Ad oggi oltre 36 sono le tonnellate di reti fantasma rimosse negli ultimi anni dalla Guardia Costiera su un mandato del Ministero della Transizione Ecologica, immaginate una quantità pari a 1.500.000 bottigliette che sono state recuperate dai nostri mari.